Gabriele Fiolo, quest'anno si è parlato molto dei portici cittadini anche per il riconoscimento del UNESCO che l'ha qualificato patrimonio dell'umanità, ma i portici non sono soltanto un patrimonio architettonico, monumentale ma anche luoghi di vita, questo forse il senso della mostra, è così? Assolutamente, sono luoghi di vita dove c'è momenti di condivisione della quotidianità, sono luoghi che attraversano tutta Bologna e si estendono anche nelle prime periferie, infatti abbiamo lavorato includendo anche i portici delle periferie. Sono spazi privati ad uso pubblico e quindi questi li mettono in un modello sociale di inclusività e di comunicazione veramente unico. abbiamo provato ad arricchire il patrimonio architettonico che è già presente nelle scaffalature delle biblioteche, delle librerie con il patrimonio umano, quindi lavorando con le persone che abitano, vivono e lavorano nei portici restituendo alla cittadinanza una visione diversa. Tutto questo è riassunto in questa mostra che è ospitata alla Queer Gallery in via Sentisia 90 e in un bellissimo libro edito da Minerva Edizioni che raccoglie tutte le foto ed è arricchito da numerose interviste che vanno dallo studente fuorisede fino al Cardinale Zuppi. Un libro che da oggi è anche nella Biblioteca del Santo Padre. Ah, si è già sparsa la voce, sì. Oggi l'editore Roberto Mugabbero era in udienza alla Sala Nervi a Roma dal Papa e ha consegnato proprio il libro edito dei Portici di Bologna, questo libro. Un'ultima cosa, lei ha definito i portici uno stile di vita, cosa vuol dire esattamente? È uno stile di vita, ci si incontra, si vive proprio la convivialità, un po' come la funzione dei ponti che hanno questa funzione appunto di unire. Quindi è la convivialità che ospita ed è caratteristica della nostra città.